RYOBI HONOR LSR Bello, potente, affidabile e soprattutto leggerissimo. Solo 490 grammi per la misura 6500. Frutto di un lungo lavoro di sviluppo e progettazione, costruito interamente in carbonio R18, a garanzia di peso ridotto al limite ed inalterata robustezza. Monta 7 cuscinetti più 1, per garantire un'ottima scorrevolezza in fase di recupero e cattura. HONOR LSR I ripescatori più esigenti di surfcasting e non solo. Alta tecnologia ed esperienza Tubertini.